Grazie Signore perché noi ci realizziamo cantando alle prime generazioni cristiane quando si cantavano immi, cantici, salmi, spirituali. Ora ci realizziamo al popolo della Lode, come detto nel rapporto ufficiale di Plinio, il giovane, all'imperatore, all'inizio del secondo secolo. Questo popolo strano si raduna nel giorno del sole e canta inne, cioè si raduna cantando inne a un dio invisibile nei luoghi dove si trovano. Oh Signore, anche il popolo pagano nel rapporto ufficiale notavano i cristiani come un popolo della Lode, un popolo che cantava nel giorno del sole, giorno di domenica, a un dio invisibile, cantavini meravigliosi. Signore, noi ci realizziamo alle prime comunità cristiane, ai primi nuclei di cristiane diffusi nell'impero che cantavano inni, cantavano melodie strane al dio invisibile. Signore, è nei canti carismatici che fiorivano prima che venissero le forme, così, le forme liturgiche dei canti, è nei canti carismatici spontanei che fiorivano tra la bocca dei cristiani. Signore, noi ci rilasciamo alle prime generazioni cristiane e vogliamo continuare la nostra Lode in questo popolo pagano, in questo mondo di paganesimo, vogliamo cominciare di nuovo a cantare, ad orare, a benedire, dove si è sborsato il canto delle creature che dovrebbero cantare al loro Signore, dove gli uomini si sono dimenticati di te e cantano ad altri dei. Noi vogliamo cantare a te, unico vero Dio, con cantici spirituali, e le nostre assemblee sono assemblee di popolo, che adorano Dio, gloria del proprio Signore. Alleluia.